Ciao, sono Stefano, direttore di Selezione Zanotto. Oggi parleremo dei nostri vini di Colfondo. Colfondo è un vino della tradizione venetica, made of 100% clara grape, grown in the historical area of Prosecco. Questo vino è usato usando il metodo tradizionale, con la seconda fermentazione che succede nella bottola, sulle lezze. Una volta fermentato, il vino non è filtrato, mantenendo l'eist nella parte della bottola. E' da questo motivo lo chiamiamo Colfondo, che significa letteralmente con sedimento. Sedimenti sono realizzati di eist. Questa defensa naturale permette il vino di durare anni, evitando l'addizione di extra-sulfuro che normalmente usano nella produzione industriale. Il risultato è un vino molto drinkabile, mineral, mouthwashing, matura e con alta acidità. e anche con un risidio molto low di sugari. Secondo la tradizione venetica, la re-fermentazione di questo vino succede solo una volta al anno, normalmente in tempo vicino all'esterno. questo vino rappresenta la storia del vino di prosecco, e se sei un piacere, Colfondo è sicuramente l'espressione di questa area, dandovi la possibilità di sentire un vino prodotto dove le regole non sono guidate da mercato mercato. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info